Vicecapolista di scena al piccone e ce l'hanno determinato a vendere cara la pelle contro gli uomini di Favo. Giornata fredda e pubblico sparuto, accolgono in campo i 22 che partono determinati, ma a sparigliare è proprio la compagine di casa che al decimo passa. Pressing alto, recupero del pallone e cross sono un tutt'uno. Il resto lo fa l'opportunismo di Aquaro, sempre più decisivo e determinato nel raggiungere la vetta della classifica cannonieri. Un a zero locale in maceratesi che prova a ripartire immediatamente con l'ex Ancon Ambrosini al diagonale al lato. Aquaro è una spina nel fianco bianco-ross e lo conferma al diciottesimo quando quasi non pizzica lo specchio della porta. È un celano che si mostra all'altezza della seconda in ogni frangente e al ventiquattresimo bussa di nuovo dalle parti di Rocchi con Lancia che lo scavalca, ma è impreciso nell'ultimo tocco, troppo sporco per essere vincente. Nevica e il ritmo scema, ma i brividi non sono solo meteorologici. Al trentaquattresimo quando Ambrosini mette su una percussione da urlo che la munita retroguardia bianco-azzurra disinnesca dopo ripetuti tentativi ospiti. Ripresa con pochi spunti, soprattutto nella prima metà, con il celano che non sembra faticare ad imbrigliare la manovra ospite. Poi, intorno al venticinquesimo, qualcosa cambia negli equilibri della partita. Ci provano i marchigiani con Ruffini, però con scarsa fortuna. Trentesimo tocca a Santoni cercare il pari, primo palo botta, ma Bartoletti risponde presente. Però l'appuntamento con il pari per gli ospiti è solo rimandato e di poco. Intervento scomposto sul neoentrato Perfetti è fallo capitale. Palla sugli 11 metri e Ambrosini non sbaglia spiazzando e siglando così l'1-1. Tutto da rifare per i marchigiani, ma il tempo ormai è poco e il match si chiude infatti con un salomonico 1-1.